Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto categorie tedesco Schildi Cloak 8 giorni movimento. 32 73 16 tedesco Schildi Cloak 8 giorni movimento di 35 cm di romba caas. Made in Germany garanzia, 2 anni. 100 originale orologio a cucù della foresta nera. Incluso, certificato di autenticità da parte dell'associazione orologio foresta nera. Premium orologio a cucù da romba caas. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazoniti, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.